Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi parlo del nuovo GDL che ho deciso di creare per leggere tutti insieme un libro. Allora, come vedete dal titolo, il GDL è un GDL di primavera. Perché? Perché prenderà, diciamo, tutto il periodo della primavera. L'ho fatto anche lo scorso anno e in quel caso era un GDL d'estate, nel senso che il gruppo di lettura è iniziato il 21 giugno ed è finito il 21 settembre, quindi ha preso proprio tutti e tre i mesi estivi. Ho deciso di riproporlo perché l'anno scorso per l'appunto vi è piaciuto veramente tanto. Abbiamo letto l'anno scorso IT, quindi una lettura molto particolare, una lettura impegnativa, un bel tomone, che però aveva coinvolto tanti di voi che o erano incuriositi da tempo e quindi hanno comprato il libro, oppure addirittura l'avevano in casa e non avevano mai trovato l'occasione di iniziarlo e insomma di avventurarsi in questa storia. E quindi appunto il GDL è stata l'occasione giusta per leggerlo tutti insieme. Inoltre, non solo molti di voi hanno partecipato, ma altri che per un motivo o per un altro non hanno potuto partecipare o perché il libro non era nei loro gusti o perché magari l'avevano già letto o avevano conosciuto l'esistenza del GDL troppo tardi, insomma in tanti mi avete scritto spero rifare un altro GDL perché mi piacerebbe partecipare. E' per questo quindi che quest'anno ho deciso di riproporlo. Anche questa volta quindi ho deciso di affrontare una lettura un po' particolare, una lettura un po' impegnativa, un libro abbastanza lungo, che quindi magari molti di noi anche in questo caso hanno in casa e che magari fino a questo momento non avevano trovato il coraggio di affrontare. Perché poi è anche il mio caso e aiuta anche me, ecco, il gruppo di lettura a leggere dei libri che vorrei leggere da tanto e che magari riesco ad apprezzare di più proprio perché siamo in tanti e ne possiamo parlare in tanti. Quindi sono qui adesso per dirvi non soltanto il titolo in questione, che lo so siete curiosi, ma soprattutto per dirvi come si svolge il gruppo di lettura, quali sono le regole e così via. Per quanto riguarda il titolo ho dato a voi la possibilità di scegliere su Instagram tra due titoli, uno dei quali, quello non scelto, era La Città della Gioia, un libro che vorrei leggere da tantissimo tempo e che spero comunque entro l'anno di avere l'occasione di leggere. Però devo dire che la vittoria è stata abbastanza schiacciante per l'altro titolo. Sto parlando di Via Colvento, che voi vedete in questa mia edizione bellissima, vintage della mamma, però è senza copertina, quindi praticamente voi non vedete niente a parte una copertina rossa rigida. Però qui dietro ecco un vecchio Mondadori che comunque ha il titolo. E oltretutto per farvi capire, ecco qua, la mia mamma ha lasciato dietro il suo commento come faceva sempre quando era ragazza e questo libro è stato letto nel 78, o meglio terminato a Prato il 19 marzo del 78. Quindi io lo inizierò il 21 marzo di esattamente 41 anni dopo, insomma, il bello di queste edizioni vintage è anche questo, l'unica cosa un po' negativa è che qui vedete, cioè, non so se si vede comunque, la copertina se ne stava andando ed è stata aggiustata un po' così con lo scotch. Ma a parte questo sono pronta a leggere questo libro. Come si svolge il gruppo di lettura? Come ho detto sarà un gruppo di lettura di primavera, quindi avrà una durata di tre mesi, dal 21 marzo al 21 giugno, quindi il giorno in cui cambia la stagione. So che alcuni di voi non ce la faranno a rispettare un tempo così lungo, perché capisco che tre mesi sono tanti, infatti anche per quanto riguarda IT, l'anno scorso molte persone l'hanno terminato prima dei tempi stabiliti. Io in realtà metto sempre tre mesi, perché comunque il libro è bello grande e cerco di coinvolgere anche persone che magari non sono abituate a leggere tanto in un mese, come magari, insomma, posso fare io, perché ho un canale da tirare avanti, tra virgolette, quindi leggo più libri in un mese. Quindi preferisco spalmare un po' la lettura per darvi modo non solo di leggere più lentamente se non siete dei, insomma, lettori allenati, ma anche magari di alternare la lettura con altri libri che avete piacere di leggere durante il mese, quindi proprio per avere il massimo relax. E appunto la lettura sarà divisa in tre parti, quindi vi dirò quali parti leggeremo ogni mese e io esattamente il 21 di ogni mese farò uscire un video su YouTube in cui parlo della parte che abbiamo letto durante quel mese specifico, ovviamente. E sarà proprio lì l'occasione per parlarne sotto nei commenti tutti insieme. Vedrò un po' se è il caso di fare una diretta o no su Instagram, valuterò, diciamo, quante persone leggeranno effettivamente il libro e se vi interesserà potremmo anche fare una diretta dove parlarne, però ecco, quello non sono sicura di farlo, sicuramente farò il video, perché è una cosa che ho fatto anche l'anno scorso. La lettura appunto è divisa in tre parti e io ho diviso, diciamo, il numero dei capitoli, dato che non tutti avremo la stessa edizione, quindi chiaramente non potevo basarmi sul numero di pagine, quindi ho diviso i capitoli che sono in totale 63 in tre parti, quindi leggeremo 21 capitoli ogni mese. Quindi il primo mese, che va dal 21 marzo al 21 aprile, leggeremo i capitoli dall'1 al 21 compreso. Il secondo mese, che va dal 21 aprile al 21 maggio, leggeremo dal capitolo 22 al capitolo 42 compreso. Infine, l'ultimo mese, che va dal 21 maggio al 21 giugno, leggeremo i capitoli dal 43 al 63 compreso, ovviamente, perché è l'ultimo capitolo. Ok, comunque, tanto vi avrò lasciato tutto scritto sotto e riuscite a memorizzarlo meglio. Per quanto riguarda l'edizione, invece, alcuni di voi su Instagram mi hanno scritto dicendo che non riescono a trovare l'edizione che ho io, ma credo che sia impossibile trovarla, praticamente, o se la trovate, magari la trovate a un prezzo molto alto, perché, appunto, è molto vecchia questa. Vi lascio il link sotto di Amazon, dove potete trovare l'edizione che c'è adesso della Mondadori di Via Colvento. Ovviamente, se ce l'avete in ebook, va bene, se ce l'avete in altre edizioni più, magari, che sono più vecchie, che oggi non si trovano più, va bene, perché tanto l'importante è leggere la storia tutti insieme e poi parlarne tutti insieme. Bene, ragazzi, io credo di aver detto tutto su questo libro e spero veramente che parteciperete in tanti, perché ho voglia di iniziarlo, voglia di condividere con voi questa lettura, che, obiettivamente, non ho mai sentito nessuno parlarne male, quindi ho alte aspettative. Io mi raccomando di seguirmi su Instagram, perché lì, comunque, ho un rapporto un po' più diretto con i lettori che faranno parte di questo GDL, perché magari ne parleremo un po' settimana per settimana, condividerò, magari, non so, le vostre opinioni, le vostre idee, i vostri spunti, man mano che la lettura va avanti. Quindi c'è un rapporto, come ho detto, un po' più diretto e vi invito, magari, a seguirmi lì, che rispetto a YouTube, chiaramente, c'è un approccio diverso. E basta, questo è quanto. Allora, noi ci vediamo tutti il 21 marzo per iniziare questa bellissima lettura, che spero veramente saprà conquistarci e portarci con dolcezza all'arrivo dell'estate. Quindi, grazie ancora e noi ci vediamo presto con un altro video. Ciao!